Sapete se è stato multato Arcuri, che è stato fotografato in giro per Roma senza mascherina? Non so rispondere! Stava parlando al telefono! No, vorrei saperlo! Perché, scusate un attimo, qui continuiamo a parlare della gente che deve stare... Ma non me ne frega niente, deve avere mascherina! Stava parlando al telefono, però per carità, sì... Ma non può farlo! Stava parlando al telefono così! Non può, in base ai DPCM, non può farlo! Ok? Allora, io vorrei sapere quanto è stato potenziato il trasporto pubblico in questo periodo! Quante terapie intensive nuove sono state aperte! Perché noi stiamo chiusi? Perché lo Stato non sta facendo il suo dovere! L'ho già detto mille volte! Dov'è il contributo dato alle famiglie per l'acquisto delle mascherine? E' l'ora di farla finita, che la colpa è sempre del cittadino! Sarà il caso che lo Stato faccia anche la sua parte? Perché se no andiamo verso la palisse, no? Speriamo che la morte si trovi in vita! Cioè, è possibile demonizzare il fatto che a Cadorna c'è tanta gente... Ma chi ha demonizzato? E allora che deve fare? Smette di lavorare, smette di vivere? Ma chi ha detto tutto questo? Deve smettere di vivere la gente! Ma chi ha detto questo? Ma datemi una risposta! Ma chi ha detto questo? Questo Paese sta affondando! E non c'è nessuno che si sta preoccupando di tirarlo fuori dalla prima! Allora, 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 mi sembrano chiarissime le posizioni di Cambi e di Parenzo. Voglio tornare però al professor Bassetti.